La sanità digitale nel Friuli Venezia Giulia è una realtà abbastanza di buon livello in quanto ha già realizzato molte cose per quanto riguarda il fascicolo sanitario per il cittadino. Abbiamo però anche ancora molta strada da percorrere soprattutto per quanto riguarda la fornitura di servizi al cittadino, soprattutto lo scarico dei referti, la possibilità di avere accesso ai propri documenti e questi sono elementi che dovremo nei prossimi mesi e nel prossimo anno impegnare tutta la nostra organizzazione assieme con l'Inseal.